Inizio della seconda parte del secondo tempo Sangataldesa e Mazzara Il punteggio è di 1 a 0 per la Sangataldesa Si prestano i soccorsi a Gaetano Dolenti A seguito di una rimessa Gaetano Dolenti si è stirato il muscolo Il punteggio è di 1 a 0 per la Sangataldesa Ancora un accenno di rissa Ma sei inutile!